come cantante e famosa soprattutto negli anni 60. Nel 1965 vince il Festival di Castrocaro interpretando Come ti vorrei, acquisendo così il diritto a partecipare al Festival di Sanremo 1966, nel quale propone Dipendesse da me, che non viene ammessa alla serata finale. Nel 1970 posa, coperta da veli, per Playboy e Playman, nel 1972 ha pubblicato il suo unico album, Perché qualcuno un giorno mi ha dato la vita e, una voce, con gli arrangiamenti di Vince Tempera. Nel disco suonano, tra gli altri, Ella De Bandini, Alfredo Golino e Massimo Luca. Ben più rilevante la sua carriera da attrice. Con la partecipazione a una trentina di lungometraggi da caratterista. Grazie anche al fisico possente. Ha girato anche alcuni film di commedia erotica all'italiana. Rilevante inoltre il suo contributo come personaggio televisivo. Grazie alla partecipazione a Evarietà Rai Settimo anno del 1978. Insieme a Lando Buzzanca e Divana Monti. Che patatrac, 1982, di Gianni Boncompagni con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. O ancora nel 1988 in aperto per ferie. Insieme a Michele Mirabella. Luciana Turina è stata sposata due volte. Nel 2008 si è trasferita in provincia di Palermo. Dove attualmente risiede con il suo compagno. Di 21 anni più giovane di lei.